se volete delle cose non fa senza fare la pagata ci sono Sanna e Pantocci, Palma Fioretti, Martian Luciano e Cosico Enzo questo lo chiamo in gruppo Raniero 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 a me ne ha un altro allora diamano anche un prezzo allora al momento ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 11 se ci diamo 5 progetti a testa si spesso a tutto quello che si spede che è questo questa volta come comitato io volevo fare più che altro delle proposte soprattutto rivolte a Raffaele le mie proposte si riferiscono soprattutto a quello che succederà nella domanda della distanza per quanto riguarda Sapna e tutta questa storia noi come comitato già abbiamo chiesto altre volte e lo richiediamo vorremmo far parte o come rappresentanti o con un nostro professionista a quello che succederà dentro la cava perché è importante che la nostra visione sia occhio a occhio non abbiamo più fiducia di nessuno voglio solo dire che questo progetto che adesso è illustrato il giudice noi già l'abbiamo visto tempo fa e vi ricordo che qualcuno di voi della municipalità c'era ci siamo visti nella possibilità scambia quando vede sapona penso che qualcuno di voi c'era presentamente a questo progetto Palma mi darà ragione con quello che c'ha c'era un progetto del 2011 della sapona che voleva mettere non copertura vegetale ma quello che è scarti di schipezza quello che poi chiamano creazione muta di sovaglia e noi come deficienti e come unitati che ancora continuiamo a lottare facendo casino proprio per non far mettere la schipezza anche nella copertura semesta noi che chiediamo proprio l'intervento non solo delle persone ma di professionisti che guardano tutte le volte che siamo entrati in discarica ma non solo nel 2008 io non mi riferisco alle mazzate che abbiamo preso tutti io mi riferisco solo a una cosa che essere nel territorio vuol dire combattere per tanti anni perchè qua non chiunque parliamo tutta la via del mazzate però quando stavamo in quarta mattina a plegare erano sempre gli stessi quindi non ci facciamo la bocca grande dicendo che tutti abbiamo fatto la bocca alle mazzate è stata quella che ci ha visto entrare in distanza con i suoi libri quando c'era il geometra che non mi ricordo il filmone che è stato con il dare la legge, la legge, la legge abbiamo tutto, ci hanno sempre una legge comunque noi andò una volta che chiediamo il nostro intervento facciamo fede ovviamente era un paese di giudice che ci fosse da essere garante questa volta sapendo che il comune è di Napoli questa volta certamente è di adesso quindi per noi sarà più facile e proprio per dare importanza a quello che noi abbiamo fatto quella discesa che il professore Ortovani diceva qui c'è un amico mio che si chiama Pasquale siamo andati insieme con altre persone anche di età, a piedi ci siamo fatti tutta la strada dentro la discarica quella cosa che diceva il professore noi l'abbiamo visto oggi vi ricordate quando ci fu la possibilità che la discarica si doveva ampliare? ve la ricordate che scendiamo in piazza un'altra volta? la strada era quella era quella da sopra noi già lo sapevamo la gente che stava a Chiaiano a dormire non lo sapeva la gente che era a Marano a dormire non lo sapeva la gente che era a Pugnano non lo sapeva non voglio venire non voglio venire ma Pugnano si è dormito si è dormito ma chi è sottovalassico in dormire? eh sì sì va bene io mi devo lo sapeva e io non lo sapeva non c'è dubbio c'è dubbio non si può mettere il dubbio non è stato di chi sta sul territorio non si devono scrivere assolutamente non si devono scrivere assolutamente non si devono scrivere assolutamente sentire non verso di me ma verso tutti quelli che hanno che noi stiamo facendo stiamo facendo una mediazione ci tolgono la discarica di mettono il sito di cuore Raffaele rispondite grazie Mimì 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 Terzio Mimì Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti.